Dopo oltre due anni di chiusura a causa di una forte crisi finanziaria che più volte ha visto all'asta lo storico teatro di Forcella e a seguito di importanti lavori di ristrutturazione, riparte da domani la programmazione del Trianon Viviani. Ad aprire la nuova stagione sarà il direttore artistico Nino D'Angelo che torna alla guida del teatro dopo anni nello stesso incarico con il nuovo allestimento dello spettacolo Io senza giacca e cravatta di cui è autore e interprete. L'emozione bellissima vedere un teatro che oramai non c'era più e per all'asta praticamente non apparteneva già più a Forcella, di darla alla gente per me è una soddisfazione esagerata, è una cosa giusta. La giustizia che in questo paese non funziona ha funzionato qua, la gente mi ha voluto e io ho fatto sì, ho aiutato la gente ad avere questo diritto alla cultura perché la cultura è un diritto di tutti quanti e se Napoli vuole cambiare la prima cosa deve fare questo, deve riappropriarsi della parola uguaglianza perché Forcella è un quartiere come tutti i quartieri che ci sono al mondo. Questa mattina la visita del sindaco di Napoli Luigi De Magistris con l'assessore alla cultura Nino Daniele che insieme a Nino D'Angelo e al presidente del consiglio di amministrazione Giovanni Pinto hanno incontrato le maestranze del teatro ed annunciato i progetti di riqualificazione per la zona di Forcella. La chiusura è stata responsabilità di una stagione politica che ha alle spalle, questa riapertura è stato un atto di amore, di coraggio istituzionale e di volontà politica che ha messo insieme la regione Campania, la città metropolitana di cui sono sindaco e il comune di Napoli. Nella legge del Rio nella città metropolitana non si parla di cultura, io ho rifinanziato il Trianonno come città metropolitana perché la cultura è anche sviluppo economico, tra i compiti della città metropolitana c'è lo sviluppo economico, quindi abbiamo fatto rientrare dalla finestra ciò che volevano far uscire dalla porta. Adesso bisogna mantenere intatta questa sfida, farla crescere sul piano artistico, Nino D'Angelo in questa è una garanzia e poi anche un'occasione per riqualificare quest'area che devo dire è ancora abbastanza degradata. Ci sono tre punti sui quali stiamo lavorando alacremente, il decoro di questa piazza sempre di più, poi anche il Natale organizzare qualcosa e poi provare a far utilizzare le serate, i pomeriggi in cui c'è teatro il parcheggio che si trova ai lati di Castel Capuano, un modo per garantire migliore accesso, mobilità e anche sicurezza per chi viene a teatro. Per noi il fulcro fondamentale per una rete importante che nel frattempo in questo territorio, faticosamente, a volte anche un po' carsicamente, si è venuta costruendo e in cui la cultura e l'arte sono diventate leve fondamentali di riscatto e di emancipazione, di rigenerazione urbana.